Il cult che affrontiamo oggi sfida la natura. Renato Pozzetto e Enrico Montesano si iscrivono a un corso di sopravvivenza al grido di noi uomini duri. Adesso soffro di un occulto confronto perdente con i rambi, come li chiami tu, quelli che mangiano il tono col coltello, con gli uomini duri, quelli che non devono chiedere mai. Il film uscì il 12 febbraio 1987 e inizialmente si sarebbe dovuto intitolare Uomini Duri, poi aggiunsero il Noi perché suonava meglio. Dovete sapere che nello stesso anno a settembre uscì un omonimo film americano con James Belushi, Noi Uomini Duri Real Men, che però non aveva niente a che fare con la sopravvivenza. Proprio come consulente per la sopravvivenza, per noi uomini duri, è stato interpellato Jacek Palkiewicz, un esperto del settore che nel 1982 aveva fondato la prima scuola di sopravvivenza in Europa. All'epoca se ne parlò molto e fu proprio quella scuola a ispirare il soggetto del film. Nel cast è presente anche un certo Gianluigi Ghione. Ghione. Ma è lui, è Jimmy! Quello che qualche anno dopo diventerà lo storico inviato di striscia la notizia. Mi chiamo Antonio e sono della provincia di Torino, venditore di ceramiche ambulanti. Cioè? Venditore ambulante di ceramiche. In Noi Uomini Duri c'è anche una giovane Alessandra Mussolini, ancora distante dalla scena politica e concentrata sulla sua carriera cinematografica come la zia. Eh sì, perché forse non tutti sanno che la zia di Alessandra Mussolini è la famosissima Sofia Lore. Se la cava? Eh? Non c'è male, pensavo peggio. Eh? L'assistente del regista Maurizio Ponzi vede un nome che dovrebbe dirci qualcosa. Ferzan Ospetek, che prima di diventare famoso per aver diretto pellicole cult come Le Fate Ignoranti, si è fatto le ossa dietro le quinte di alcune commedie all'italiana, come Il Tenente dei Carabinieri. Anche i commercialisti hanno un'anima e mortacci. Non potremmo scambiare le flessioni con delle frustate, io preferirei... Pompa pompa che ti fa bene. Facciamo un po' di gossip. L'istruttore pompa pompa che ti fa bene è Igor Marini, un sex symbol degli anni Ottanta che si faceva chiamare anche Igor Zaleski. Si sposò con un'altra attrice del cast, la bellissima Isabel Russinova e qualche anno dopo venne invischiato nell'affare Telecom Serbia, che tenne banco nelle cronache degli anni 90. Ecco, visto che avete fatto così in fretta, fatene altre dieci. Grazie, è molto gentile, volentieri. Gradisci? No, io vengo volentieri. Ma dove si trova la scuola di sopravvivenza del nostro cult? Il bellissimo casolare del film, che è anche il set principale, è il rifugio Pian della Capanna, a Piede Santo Stefano in provincia di Arezzo. Proprio al rifugio inizia e termina la gara finale del corso dei nostri uomini duri. Però se osservate bene c'è qualcosa che non quadra nel regolamento. Come potete vedere, i concorrenti partono a turno cronometrati. Ma si aggiudica la vittoria chi arriva prima a prescindere dal tempo. La gara è truccata! Un aneddoto dal set riguarda la scena finale, durante la quale Pozzetto fu per lungo tempo irreperibile, non si trovava da nessuna parte, finché non si scoprì che era tornato in albergo, indispettito per un piccolo diverbio. Allora io sto a Milano, ho gli uffici a Ginevra e la mia famiglia abita a Parigi, ditemi perché cazzo devo incontrare un po' di tibetano? Ho già ragione, scusa, che gli frega? Roba da strapparsi i capelli, o forse da tagliarseli, perché se osservate bene c'è una discrepanza tra le pettinature proprio di Renato Pozzetto. E sono venuto perché saranno occhi e croce cento mesi. Beh, è molto meno grave. Ecco! Come potete vedere, anche io da vero uomo, ho superato con destrezza e virilità il ponte tibetano del film, quindi ho tutto il diritto di gustarmi per l'ennesima volta un cult come noi uomini duri. Oh no, 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 ho paura del buio. Me l'ha ordinato lo psicanalista. E per chi? Questo se permette? No, no, mi puoi dare del tu, anzi ci dobbiamo dare del tu. Sono cazzi miei. A questo punto è meglio che mi dai del lei. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.